Non chiamiamo Lino Vax, ieri a contestare il ministro della salute Roberto Speranza a Pesaro per l'inaugurazione della farmacia in Biagiolitti c'era il popolo delle terapie domiciliari e tra loro anche diversi medici vaccinati, poi il loro leader l'avvocato Erich Grimaldi, fondatore di UCDL, Unione delle Cure e Diritti delle Libertà e fondatore del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19. Vogliamo essere curati con le cure domiciliari precoci hanno gridato all'arrivo del ministro mostrando chiaramente il messaggio inciso anche sulle loro magliette ad un giorno di distanza da quella che doveva essere una semplice inaugurazione poi trasformatasi in un evento contestato oltre che da loro anche da una piccola minoranza del movimento Io Apro guidato da Umberto Carriera e lo stesso avvocato Grimaldi a spiegare ai microfoni di Fano TV il motivo della loro presenza in via Giolitti. Per chiedere a speranza di far partecipare i medici del consiglio scientifico del nostro comitato alla revisione dei protocolli di cura perché più volte abbiamo invitato il ministro a coinvolgerci non c'è mai stato nel nostro paese uno schema terapeutico, un protocollo e delle linee guida che coinvolgessero le esperienze e le evidenze dei territori. Quindi non eravamo assolutamente Novax così come è stato scritto da alcune testate locali, anzi il nostro gruppo è un gruppo che tende ad ottenere una terapia domiciliare precoce da praticamente che sia complementare alla campagna di prevenzione e di vaccinazione e quindi una terapia domiciliare precoce adeguata che possa servire in questa emergenza sanitaria perché non basta solo la vaccinazione. Abbiamo visto che spesso il virus buca il vaccino e abbiamo sopportato, aiutato e guarito a domicilio circa 20-30 mila persone supportandoli in fase precoce ai primi sintomi e senza una vigilante attesa così come prevedono le linee guida ministeriali.